Non è un'altra parte, parlato con Maria, sta a terra e non pazza, e poi un cuore non so che ne c'è, chi capirà? Non si può vivere e guardare, qualcosa che fa male non sarà, un'altra strada che ci sarà. E poi se arriveremo in tempo, non è un'altra strada che ci sarà.